Ok, accetto la sfida. Questa sera, sushi. Dunque, quante varietà ci sono di sushi? Maki zushi, sushi arrotolato. Futomaki, rotoli larghi. Hosomaki, rotoli sottili. Temaki, rotoli a mano. Uramaki, rotoli interno e esterno. Oshi zushi, sushi pressato. Nijiri zushi, sushi modellato a mano. Gunkan zushi, sushi nave da battaglia. Inari zushi, sushi ripieno. Kiras hi zushi, sushi sparpagliato. Gomoko zushi, sushi nello stile Kansai. Nare zushi, la forma più antica di sushi. Funa zushi, fermentazione lattica anaerobica di un pesce d'acqua dolce. Riso zushi. Nori, avvolgimento vegetale. Fukuzza zushi, frittatina. Interessante. I condimenti. Shoyu, salsa di soia. Wasabi, spesso per pasta di raffano verde. Garin, zenzero. Shiso, mirin, vino di riso dolce. Interessante. Interessantissimo. Grazie. Ho accettato la sfida. Adesso non mi resta che precipitarmi in un sushi bar. Certo. Chissà che dizione terribile che devo avere. Spero che mi perdonino. In fondo, in fondo, sono un occidentale. Abituato alla pizza, agli spaghetti, alla bistecca, ma anche al pesce. Ma così no. Così è molto interessante. Grazie ancora. Sayonara. Grazie a tutti. Grazie a tutti.